Ciao, mi chiamo Giulia, ho 18 anni e frequento il liceo scientifico Edoardo Amaldi a Roma e sto facendo il PCTO dei nonni su internet. Io da questo progetto mi aspetto di imparare ad acquisire un determinato linguaggio che è più semplice da capire per delle persone più grandi di me, essendo che magari noi siamo abituati a utilizzare determinate parole o slang che magari è una versione più grande di noi e non capisce.